Questa mattina sono andata in un grande magazzino, volevo comprarmi delle culotte, un paio di mutandine, niente di speciale, così sono andata al reparto biancheria ed effettivamente mi sono ritrovata davanti una montagna di mutandine e due commesse. Credete che mi abbiano chiesto cosa volessi? Le signorine parlavano di viaggi, eppure mi hanno vista, ma non mi dicono niente. Allora glielo dico io, signorine, scusino, quando saranno tornate dalla Thailandia avrebbero la cortesia di occuparsi della clientela, che dopo tutto contribuisce, seppur in minima parte, alla realizzazione di questo loro meraviglioso viaggio. Hanno alzato al cielo uno sguardo sincrono di una stanchezza, perché giustamente, povere, lavorano solo loro, e finalmente una delle due si avvicina e mi fa, diga, pronuncia super locale, sì, desidera. Signorina, io vorrei prendere visione di ciò che avete in fatto di mutandine, ecco, alzata di spalle, poi con un ditaccio mi indica le mutandine che abbiamo di fronte a noi, e mi fa, ah signor, ce ne avemo di tutti i tipi, guardi un po' qui in mezzo, va. Questo lo vedo anch'io, che ce ne sono di tutti i tipi, non sono mica cieca. È che volevo qualche delucidazione a proposito. In che senso, scusi? Nel senso, signorina, io vorrei un paio di mutandine, possibilmente piccoline, magari una forma un po' nuova, diversa, elegante di pizzo e di un colore che si avvicini, direi, al viola. Forse un parma? Parma? O deghe? Direbbe come? Parma, signorina, parma, se non lo sa, parma è un colore molto bello ed elegante, che va di moda e che sta tra un po'... Ah, oh, non gestanno. Senta, se non gestanno, come dice lei, non è che me la prendo con lei, evidentemente sui colori delle mutandine ha delle idee piuttosto limitate, se non con il senso commerciale dei suoi superiori, dei quali se è possibile. Vorrei risalire il suo caporeparto. Mi darebbe il piacere di chiamarlo? Alza gli occhi. Anigolè, chiama un po' Carlo, va. No, signorina, non Carlo, il caporeparto. Anigolè, allora, chiama Peppe perché a questa qua non gli va che io chiamiamo Carlo.